Buongiorno amici e amiche, questa mattina le telecamere di Sinapsi News e Napoli News sono all'interno della sala in glario del Tribunale di Napoli dove si affronterà un argomento importantissimo e anche un dato sensibilissimo per l'economia del Paese, parleremo di riciclaggio e di economia criminale, seguite il servizio. Dottore, stamattina un momento convennistico importantissimo indirettamente e direttamente per l'economia della città e del Paese stesso. Guardi, qui si parla di economia criminale e purtroppo è un termine calzante perché la camorra, le mafie, diciamo in senso più ampio, sono purtroppo penetrate e da tempo nei meccanismi economici e finanziari. Inficia tantissimo, è sempre complicato fare delle stime, però non c'è dubbio che inquina l'economia legale e falsa il mercato della libera concorrenza. La Guardia di Finanza ovviamente su questo versante è in prima linea perché la nostra missione istituzionale ci impone proprio di intercettare i flussi finanziari illegali, di sequestrarli nell'ottica poi della successiva confisca. Il tema che viene affrontato oggi dal convegno è un tema centrale che riguarda l'intero ambito delle azioni complessive di contrasto alla criminalità organizzata. Parlare di riciclaggio, di economia illegale ovviamente è una questione che attiene all'intero sistema Paese e che chiaramente danneggia non soltanto le istituzioni ma anche i singoli cittadini nella loro funzione anche di imprenditori. Come è noto infatti l'espressione criminale che infiltra i tessuti economici non solo della pubblica amministrazione ma del mercato genera chiaramente un danno che è evidente a tutti. In questo ambito chiaramente noi dobbiamo confronteggiare una criminalità che è in grado in maniera camaleontica di adeguarsi anche alle mutate condizioni. E perché questo? Perché ha l'esigenza ovviamente di investire una liquidità enorme che proviene dai traffici illegali, sostanziali superficienti, di armi e comunque delle attività delinquenziali. Dottore Conso, c'è una metamorfosi, una mutazione genetica delle mafie? Sicuramente, ormai non è più la mafia che spara anche se esiste pure quella, però soprattutto la mafia che fa affari quindi è un volto nuovo la mafia che attraverso i colletti bianchi, cioè imprenditori e politici che sono a loro disposizione, che fanno affari reciproci in settori di interesse comune purtroppo cooperano e contribuiscono a inquinare il tessuto economico sociale.